buongiorno a tutti sono fabrizio andreatta ordinario di algebra a milano l'università di milano e come ricerca mi occupo di tiro dei numeri e geometria aritmetica ovvero di come la geometria fatta su z e non su un campo algebricamente chiuso permetta di risolvere questioni anche elementari che vengono dalla teoria di numeri. Sono qui a Pavia al congresso UMI proprio per presentare uno dei risultati che ho in questa direzione. Parlerò di valori speciali di funzioni L e forme modulari. Quindi valori speciali di funzioni L riguarda la teoria di numeri ci sono problemi aperti da decenni su come valori di certe funzioni si comportino e la cosa che vorrei spiegare domani è proprio come l'utilizzo della geometria aritmetica, le forme modulari nella fattispecie permetta proprio di gettare luce su queste questioni aperte da così tanto tempo. Queste sono questioni di cui mi sto occupando da un decennio circa con colleghi in giro per il mondo. Ricordo soltanto fra i principali Vincent Piloni che sta alla scuola normale superiore a Lione, Adrian Diovita che sta a Padova, Yael Goren che sta a McGill in Canada e tanti altri. Abbiamo avuto vari risultati in varie direzioni con tecniche che proprio negli ultimi dieci anni sono state sviluppate anche grazie alla medaglia Fields Peter Schultz e che effettivamente stanno aprendo questo dominio della ricerca e ci stanno permettendo dopo 30 40 anni di assenza di progressi effettivamente di comprendere meglio queste questioni e addirittura come domani spiegherò di risolverle. Spero anzi che questo è soltanto l'inizio di una ricerca che ci porti molto lontano. Grazie a tutti.